Porto Rubino è un festival che si fa prettamente su delle barche, in mezzo al mare, vicino al mare, in quanto è l'elemento chiave di questa manifestazione. Di fatto sono dei concerti in cui si susseguono diversi artisti e ognuno di loro canta il mare a proprio modo. Siamo andati a decontestualizzare il festival in alcuni luoghi non conosciuti come altre cittadine marinare più famose come possono essere Polignano a mare. Abbiamo scelto dunque di andare a Giovinazzo, per esempio, che ha un porto bellissimo e una delle sorprese per l'appunto che lì per esempio ci sarà Madame, che è un artista che amo profondamente, rispecchia proprio tutti i canoni secondo me che dovrebbe avere un artista, quindi unicità, libertà. Poi torna Mahmood a Brindisi, ci sarà un connubio stranissimo a Monopoli con Niccolò Fabio e Piero Pelù, poi Levante a Atricase e poi in chiusura con Francesca Michelin, Emma, Dardas, insomma tantissimi artisti, tantissime belle sorprese.